Per un giusto approccio in un lago come questo genere, dove abbiamo profondità di 7, 8, 10 metri, intorno tra i 40 e i 50 metri, è conveniente fare un po' di fondo. Un po' di fondo cosa vuol dire? Prendere un po' di pastura con un po' di nostre esche, utilizzare un pasturatore di grandi dimensioni o abbondanti dimensioni, caricare di pasture di esche e depositare sul nostro fondo. Una volta deciso la lunghezza dopo che abbiamo sondato il fondo, possiamo fare questa operazione. Molto semplice, basta montare, come vediamo, questi vari white cage distance, ci permettono di caricare molto facilmente la nostra pastura e, vedete, in ogni dotazione all'interno di ogni pasturatore ci sono due piombi, un piombo da 20-30 grammi in una versione e da 40-50 grammi in quell'altro. Se avessimo necessità di dover scaricare dei piombi, con una semplice operazione, noi andiamo a svitare il piombo sotto e andiamo a cambiare con il piombo adeguato.